Assumete una postura eretta Spingete verso il basso il cappuccio protettivo finché non sentite un clic Impugnate l'inalatore in modo che il boccaglio sia rivolto verso di voi Controllate che le dita non blocchino l'apertura di entrata dell'aria Espirate lentamente, in nessun caso verso l'inalatore Altrimenti la polvere potrebbe raggrumarsi a causa dell'umidità Circondate il boccaglio con le labbra Inspirate a fondo, energicamente Appoggiate l'ellipta e trattenete il respiro per 10 secondi Espirate lentamente, in nessun caso verso l'inalatore Spingete nuovamente il cappuccio protettivo verso l'alto in modo che copra il boccaglio Se utilizzate medicamenti che contengono cortisone, risciacquate bene la bocca con l'acqua oppure mangiate o bevete qualcosa per evitare infezioni micotiche o raucedine Con l'ellipta si inalano medicamenti sotto forma di polvere secca Si tratta di una polvere molto fine Perciò è possibile che durante l'assunzione non vi accorgiate affatto che la state inalando E' quindi fondamentale accertarsi di aver sentito un click in fase di caricamento Per essere sicuri che l'ellipta sia pronto a erogare la polvere Perciò che riguarda la polvere